Buon salve a tutti quanti, se i miei calcoli sono giusti, sono il Dirtube Channel del futuro, ma che voi vedrete nel presente, in quanto il momento in cui registro questo video è diverso dal momento in cui lo pubblicherò. C'è tipo un errore di due ore o qualcosa del genere. Comunque, nel futuro. Ok, se non mi sono dimenticato e i miei conti sono giusti, questo mezzogiorno, più o meno all'incirca, vi ho pubblicato il video in cui parlavo delle meccaniche complete di Ragnica Legends. Ci avete riflettuto sopra? Vi piacciono? Sono troppo semplici? Troppo complicate? Troppo copiate? Ok. Adesso andiamo a parlare un attimo di tre rare che ho volutamente lasciato a parte nel video delle meccaniche, nonostante siano state presentate con le meccaniche. Vi faccio questo video la sera dello stesso giorno, così da poter ridurre al minimo tutti i vari commenti. Ah, ma hai visto quella di meccaniche? Lo so, le ho viste, ma il tempo a mia disposizione è limitato e era il caso di farci un video a parte. Le carte di cui parleremo adesso sono tre rare. La prima si chiama Bedevil o Bedevil. Vabbè. Allora, non voglio necessariamente parlare male di questa carta, quindi cercherò di associare lati positivi a lati positivi, anzi considerazioni positive a considerazioni negative legate a questa carta. Una cosa molto positiva è che, beh, devo essere sincero, dopo l'Assassin's Trophy non mi aspettavo un altro tipo di removal così ad ampio spettro nella stessa espansione. Planeswalker, creature e artefatti. Ok, figata. E sono anche contento che i Rakdos si siano beccati questo removal con tanto di palle. Ecco, una cosa invece molto negativa che mi viene da dire è che non è un Assassin's Trophy. Ok, non è che lo volessi, però è sempre l'ennesimo giochino. Per standard e nulla di più. Certo, Planeswalker, creatura, artefatto, è un range abbastanza vario, ma diciamocelo, il comando di Kullagan è molto più forte, nonostante non possa uccidere creature con più di uno di costituzione. Ma, ok, mi è piaciuta, tra virgolette, o comunque mi ha astuzzicato, la cosa del doppio nero e nessun tipo di mana randomico. Cioè, voglio dire, è interessante come cosa, è molto interessante. MTG Salvation ha buttato lì questa cosa dicendo che il primo mano nero serve per uccidere le creature, il secondo per il bonus dei Planeswalker e il terzo per andare a colpire gli artefatti. È una spiegazione che mi piace e mi piace vedere carte col costo di mana completamente colorato, perché ti dice, sì, devono essere usate in un modo determinato abbastanza preciso. Sicuramente sarà una buona aggiunta per lo standard, tipo ad esempio io la sostituirò ai Prostrare nel mio Grixis da standard per avere una qualche risposta in più sia a Planeswalker, che veramente formato, lo standard di esso è pieno di Planeswalker, sia appunto per avere quel qualcosa in più, tipo contro gli artefatti, e soprattutto perché Prostrare, nonostante fosse bella per il costo 2, non andava a colpire i leggendari, e c'è sempre quel cazzo di leggendario che è l'ira, che è un palo, è un palo che deve essere rimosso in più modi possibili. Ok. Seconda rara di cui parleremo è l'esattore dei tributi, la rara Orzovo spoilerata martedì scorso con l'abilità Aldilà. Vi ricordo che Aldilà dice quando questa creatura muore mette in gioco una piadina, sì, una piadina, 1-1 volante bianconera, che deve essere proprio quel gusto che anche a Bologna se lo sognano, maledizione. Ok. Allora, durante il tuo turno le magie che lanciano i tuoi avversari costano 1 in più per essere lanciate, e le abilità che attivano i tuoi avversari costano 1 in più per essere attivati, a meno che non siano un'abilità di mana. Allora, ok, far pagare in più le magie è sicuramente una cosa molto figa. Standard, oddio, non lo so, standard, devo essere sincero, una cosa del general non me la vedo, perché questa è una carta fatta per tasse, bianconero tasse o biancoverde pali, che serve a andare a rompere i coglioni alla strategia dell'avversario, facendogli costare le spell un po' in più, o magari in questo caso le abilità, neanche se rimuovi questo pezzo ti lascia giù una pedina e fa la sua rottura dei coglioni. Ok, ci sta, lo vedo abbastanza bene in Modern, ad esempio, appunto in bianconero pali, bianconero tasse e cose del genere, ma fatemi sapere cosa ne dite di questa cosa. È più o meno meglio di Talia, perché Talia ha più o meno questa stessa cosa con l'aggiunta di First Strike. Questo però non è leggendario, targetta anche le abilità però solo nel nostro turno, ok, e ha appunto l'abilità di Aldilà, quindi lo uccidiamo per non dover subire il suo effetto, perfetto, lascia una pedina, non da poco. Bonus! Anche questo è un umano, che in questo momento potrebbe anche non sembrare una cosa così importante, ma andiamo a vedere la terza carta. Ehi, vi ricordate quando dicevo che da questa espansione l'unica cosa che volessi era il mio orsetto Rakdos, un 2-2 che facesse un qualcosa con i colori rosso e nero per poterlo mettere nel mio Mazzara Modern? Ecco, l'hanno avuto gli Azorius. Buon Natale a me, buon Natale a me. La vigna, rinnegata a Zorius, che dovremmo dire tante di quelle cose su questa carta, che cercherò proprio di vomitarvele per non togliervi troppo tempo. Allora, rinnegata a Zorius. Cioè, prima era il campione degli Azorius, adesso è diventata una rinnegata. Perché? Cosa è successo? Sarà per quella cazzo di meccanica schifo merda che hanno fatto? O perché, boh, li girava così? Poi andiamo a guardare un attimo l'immagine della carta. Cioè, Lavinia è un uomo o una donna? Perché, boh, prima c'era il tizio dei Raktos che ho scoperto essere tipo un uomo che sembra una donna. Questo invece è una donna che sembra molto no. Cosa sta succedendo su Ravnica? Hanno messo qualcosa di strano nelle A? Ok, va bene. Due, due, leggendario. Ogni avversario non può lanciare magie non creatura con costo di mana convertito superiore al numero di terre controllate da quel giocatore. Ok, è una strategia pali anche Lavinia. Ogni qualvolta un avversario lancia una magia se non è stato speso mana per lanciarla neutralizza quella magia. Ok, è una strategia ancora più pali. Ed è molto versatile come cosa perché la prima abilità la vedo molto bene anche se fottutamente situazionale in formati come il Modern. Faccio un esempio stupido, anzi ne farò due. Turno 1, Fateless Looting. Scartiamo Lingering Soul. Turno 2, non possiamo flashbackare Lingering Soul nonostante il costo di flashback sia 2 perché il costo di mana convertito delle anime indugianti è 3 e noi possediamo solo due lande. Oppure, altro esempio, il nostro simpatico avversario che è una persona tanto brava ha assemblato il trono di terzo. Non può castare Karn perché Karn costa 7 mana e lui ha solo 3 terre. Ok, fatti esempi del genere è indubbiamente una cosa molto carina però sono situazioni molto... beh, situazionali. Non sempre succederà questa cosa e non sempre avere un vantaggio del genere sarà un vero effettivo vantaggio. Certo, è vero che a volte rallentare di un turno le giocate dell'avversario può farci vincere ma è anche vero che non sempre è vero. Ogni qualvolta un avversario lancia una magia se non è stato speso mana per lanciarla neutralizza quella magia. Ok, qui invece parliamo di legacy se non addirittura di vintage perché andiamo veramente a andare a toccare quelli che sono i mocks artefatti a costo zero che quindi non si spende a mana per castarli ma vengono effettivamente castati se c'è la vigna in campo non possono essere castati oppure ad esempio forse will rimuovendoci una carta blu dalla mano non possiamo farla su un digitaxian pagando due vite non possiamo farla tutte le varie carte gash, daze, fire, blast vengono castati ma non viene pagato il mana quindi non possiamo giocarla e quindi questa la vigna uomo-donna in certa particolare è, credo sia veramente l'incarnazione effettiva di quello che è il concetto di palo di questo gioco perché veramente toglie tante giocate però la trovo comunque una carta molto bilanciata perché è vero che contro determinate situazioni o strategie è un fastidio ma non è un fastidio in generale perché se ad esempio nel mio mazzo non gioco mocks o lingering soul scartate di turno 1 per flashbackarle il turno 2 o carn da fare col trono assemblato di terzo turno la vigna è un semplice orsetto 2-2 che ci guarda che tra l'altro vorrei aggiungere questa cosa che è il motivo principale perché io adoro questa carta perché è utile no perché è un orsetto no perché è un palo situazionale che quindi può o farti vincere o farti perdere a seconda della situazione no perché è un leggendario full art che costa 3 o meno vai coltini leader ah sì tra l'altro è anche la promo dello store championship e soprattutto è un soldato umano insieme a quello di prima che è un altro umano umani si è beccato questi perché perché ci vediamo nel prossimo video un po'